cosa bene se noi facciamo la sala aperta bar bagno zona sotto sala prove e piccolo studietto da qua c'è un chiodino ora è diventato un chiodo questa cosa un campionza c'è un sacco di roba ma lo vieni qua che cosa dovevo lavorare ma basta stiamo lavorando al nuovo studio stiamo facendo lavori di ristrutturazione per essere in grado se Dio vuole di aprire il prima possibile o chi va da venire infine o infine secondo me con il palanchino si deve fare ok andiamo sempre a minchiare sempre a minchiare ma che cazzo fai ma cazzo ragioni davanti col curo ora qua abbiamo tutto il materiale che abbiamo recuperato che ho recuperato vedo che si sforza io che li guardo lavorare andiamo al piano di sopra qua c'è dove tutti voi fare di questo bisogno e finalmente lo sistemeremo queste scale vanno via ecco quello scompare ci sono le batterie nella e la posta dov'è la posta sopra? ok rotto vabbè basta poi questa è mia oddio non ce l'ho ancora che devo scaricare tutto che cazzo fai? sento questa qua bisogna staccare facciano in me se non potrei parlare con il tuo collega tutta questa sabbia che voi vedete qui prima era lì adesso l'abbiamo presa con la pala l'abbiamo messa nei paghioli e l'abbiamo portata fino alla il cemento il condizionatore è scassato il cemento l'abbiamo fatto così si come visto ah che cazzo dici vabbè ora chiudiamo o non chiudiamo qua c'è la luce divina il bello tratto in gesso se no le mettiamo fuori davanti alla santa guarda lì guarda lì ma che fai ma che fai però non l'ordate dietro i cosi ho combinato un macello qua abbiamo tolto tutta la struttura cartongessa che c'era tutta la struttura cartongessa e niente l'abbiamo 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 e direi uno scherzo penso di si forse cos'era ma ce l'ha no ce l'ha che non era andato forte eeeh come potete vedere come potete vedere bravo ho capito che sale le scale e meno solini che gliele tiene ma per evitare che vi cada il tetto in testa quando provate o che arrivate di sotto quando siete sopra e fate i video posso io? si guarda qui stiamo mettendo le tre e dai muto il flash è fuori ma è il video il samo come se non lo sai e poi è buono vedi come è buono il flash vabbè basta secondo me chi 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 Quanto vuoi passare? Non è buono Non è buono Non è buono Ma perché? Perché? Ma non è che mi viene per il passo Guarda il bel palo Ma perché non mette a fuoco i cristiani? Perché non mi interessa nei cristiani? Non mette a fuoco il palo Jacopo Pastorius Tipo come... però... riflessivo, capito? Tu inizi proprio tipo... come se parli...